Lola è una cagnolina che ha dieci anni, la teneva un signore di un paese qui vicino, però è sempre stata in un cortile chiuso, sia fuori al sole, sia fuori al freddo, eccetera. Ad un certo punto questo povero cane non se la faceva più, anche i vicini dicevano, ma insomma, che quando è intervenuta la protezione degli animali, che prima lo ha ammonito, lui ha detto faccio il bravo, la porto a spasso, poi se ne è fregato. Allora l'associazione animale l'ha prelevata e l'ha portata qui al canile. Appena è arrivata in canile era un po' impaurita, poi dopo ho visto un po' le coccole di tutti, il mangiare, i biscottini, eccetera, ha cominciato a calmarsi. E adesso pian pianino sta ritornando un cane splendido, infatti lo vedete, è bravissimo, io lo accarezzo e via. Questo è un cane che deve essere adottato perché è proprio veramente bravo e poi non si rende felice, basta poco, chiamateci per adottarlo e vi aspettiamo, numerosi. Avere a disposizione un bel giardino per il proprio cane è certamente una risorsa, il cane ha bisogno di fare movimento, una valvola di sfogo, ma attenzione che il giardino non deve diventare un luogo dove il cane rimane esiliato, dove trascorre quasi la totalità del suo tempo, privo di ogni contatto con gli esseri umani. Perché il cane è un animale sociale e maltrattarlo vuol dire anche lasciarlo chiuso in un luogo dove lui non ha contatto con nessuno e dove quindi non riesce a soddisfare le sue caratteristiche etologiche di specie. Spero proprio che Laura trovi una bella casa, è una famiglia che li vuole tanto bene. Per adottarla chiamate il numero 329080510.